Questo video riguarda i migliori tre phon per capelli. Il vincitore della qualità è l'IMETEC Salon Expert P4. Se vuoi una piega come quella del parrucchiere, l'asciugacapelli professionale IMETEC Salon Expert P4 2500, ION, è lo strumento che fa per te. Il motore professionale AC con potenza di 2000W abbinato al convogliatore professionale molto stretto sviluppa una potente portata del getto d'aria in uscita, asciugando velocemente e fissando al meglio la piega. Mantiene l'idratazione naturale dei capelli durante l'asciugatura, riducendo l'effetto elettrostatico grazie all'ionizzatore, i capelli risultano molto lucenti e morbidi. Il rivestimento della griglia anteriore in ceramica e tormalina distribuisce uniformemente il calore per donare brillantezza e protezione ai capelli. Il phon è dotato di diffusore professionale a dita per asciugare i capelli mossi o ricci. Il motore AC assicura una lunga vita all'asciugacapelli. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Roventa CV7843. Styling professionale e veloce. Signature Pro AC garantisce prestazioni professionali veloci e durature, con un generatore ionico che riduce l'effetto statico e aumenta la luminosità del capello. Le emissioni di milioni di ioni concentrano le molecole d'acqua sui capelli, riducendo l'effetto statico e l'effetto crespo per capelli lisci e pettinabili. Lascia i capelli lucidi e facili da gestire. Potente velocità dell'aria fino a 100 km all'ora e motore K professionale di lunga durata. 6 impostazioni. 3 temperature, 2 velocità per adattare perfettamente il flusso d'aria e la temperatura durante l'asciugatura, in base al tipo di capelli. Colpo di aria fredda per impostare lo stile alla fine della sessione di asciugatura, per risultati duraturi. Ergonomia perfetta e maneggevolezza per il massimo comfort. Cavo di alimentazione lungo 1,8 metri per un maggiore comfort in uso. Il vincitore del premio è il Remington AC2300. Dotato di un motore professionale, il FON Pro Air AC di Remington è ciò di cui hai bisogno per ottenere una piega perfetta, come quella di un salone, ma nella comodità di casa. Per un volume extra dalle radici poni il diffusore contro la sommità della testa. Gli ioni nel flusso d'aria convertono le molecole d'acqua dei capelli bagnati in micro goccioline più piccole, rendendo i capelli facili e più veloci da asciugare poiché scaldano solo per un periodo di tempo più breve. È possibile scegliere tra tre livelli di riscaldamento e due velocità, a seconda di come si desidera modellare i capelli. Il potente asciugacapelli da 2300 W ha un numero di funzioni utili che ti danno uno stile individuale ideale. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.